buongiorno ragazzi questa è stata una delle soste più brutte e faticose che abbiamo mai dovuto incontrare a grande richiesta calma calma non lo so dove il cinese calmati calmati eccolo qua il code calcola che in questa chat c'è anche qualche pechinese sono tutti ben accetti l'importante è mantenere un certo livello di educazione ci sono tre o quattro pechinesi imboscati che abbiamo scoperto ma ce ne sono anche un paio che riescono a parlare decentemente senza dare patenti di interismo come qualcuno su youtube è tornato a fare perché loro erano i primi che criticavano i giocatori ed esultavano vedi i cardi o tanti altri se a uno non piace eh un presidente assente che non può più mettere un euro non è più interista mentre eri interista te che criticavi i cardi che però quando fa gol lì te esulti eh certo esulto sì perché te non esultavi quando faceva gol lì te esultavi anche quando faceva gol lì cardi perché perché siamo tutti tifosi dell'inter ma io a differenza del club di pechino del clan di pechino dei pechinesi io non tifo zang non ho mai tifato zang io tifo lì per me di zang non me ne frega nulla i presidenti passano ma per fare il presidente dell'inter servono determinati requisiti sia a livello personale sia a livello professionale e soprattutto serve una certa etica una certa moralità per fare il presidente dell'inter ma servono questi ma servono questi altrimenti ti compri una squadra di ping pong servono questi questi servono quindi esultiamo sì quando fa gol nitte te non esultavi quando faceva gol i cardi che ti stava sti coglioni ma cosa stai ragionando comunque torniamo alle bombe come fanno quelli bravi boom 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 bam attenzione perché stamattina me ne danno ancora più secche sono straconfinti di quello che dicono io riporto un articolo di Alessandro Cavazin delle dieci e ventuno di stamattina lo stimo molto Alessandro Cavazin è uno dei pochi che stimo su youtube avviata procedura di valutazione dell'inter secondo me Alessandro tra prendere a male ma l'hanno già fatta compratore coinvolto subito da Oktri praticamente da quello che scrivono stamattina Oktri sta già parlando con il compratore per passaggi l'inter sapevamo tutti a parte il clan di Pechino i pechinesi e i vari associati sapevamo tutte le varie filiali dei pechinesi sapevamo tutti che era impossibile un rifinanziamento quando il rifinanziamento era stato dato per ufficiale sul web in tv sui giornali contro tutto e tutti dicevamo è impossibile non solo il rifinanziamento è impossibile ma non ha senso nemmeno un riscadenziamento perché vorrebbe solamente dire allungare un'agonia e anche lì ci siamo presi fischi critiche ma non ci fate nulla abbiamo le spalle larghe non ci fate niente potete ritirare quanto vi pare se vi fa sentire meglio perché poi alla fine contano i fatti e i fatti quali sono che è successo quello che abbiamo sempre detto bisogna solamente scoprire chi è il compratore ma te lo ripeto non mi nascondo me l'hai chiesto nell'ultima live dieci giorni fa prima di queste notizie io oltre alla penisola arabica non vedo possibili compratori io consorzio saudita rimango della stessa idea un consorzio un consorzio dove a capo ci sono secondo me non può essere altro che loro poi vedremo vuoi scommettere che a breve si ritorna a ridiscutere con gli americani o consiglia us mandato dal resto a singapore ma di cosa ragioni io zilla us anche te non ti capisco cerca un'altra maniera per farti pubblicità non usare l'inter per farti pubblicità zilla us comprati una bella pescheria insieme a zanga un ristorantino su in mare ma non rompere coglioni o quel parrucchino primavera estate ti sei messo in questi giorni quindi oltre sta già parlando del nuovo compratore c'è il passaggio proprietà in alto loro sono sicuri continuano a bombardare il giornale di pechino quello rosa non dice nulla perché il giornale di pechino cosa dice parla male dell'inter ma difende zanga ha sempre fatto sì ma perché è un giornale amico di degli amici del cinese perché poi ti dico un'altra cosa a me vedere il pesinetto dell'inter che si sbaciucchia con quello della juve anche no è uno dei motivi per cui mi sta sui coglioni saluto massimo ciao massimo volevo salutare massimo ciao ieri ho parlato con una persona massimo mi siamo scritti un paio di cose ma chi è mi ha chiesto perché eh su determinate cose che dico mi ha chiesto perché io glielo ho spiegato e penso che abbia capito comunque ti saluto massimo le parole di acerbi grazie le parole di acerbi e lui secondo me è rimasto un po' scioccato perché a quanto pare il ragazzo sembra non abbia fatto nulla quindi sembra dice addirittura quando sono stato assolto ho visto le persone attorno a me reagire come se fossi uscito dopo dieci anni di galera insomma dice una roba pesante acerbi quindi lui dice di non aver detto nulla c'è chi dice la bagarre l'ha iniziata Juan Jesus con quella spinta ma alla fine della fiera sembra anche che il ragazzo sia in grado di giocare perché lo dovevi valutare al punto di vista emotivo ma sembra comunque pronto per giocare ragazzi per come la vedo io oltre la seconda stella questa stagione ci potrebbe essere anche la terza stella ovvero sia l'uscita di Zhang anche perché avevano già incominciato deve partire uno per fare mercato a zero è quello che scrivono stamattina altri giornali deve partire uno chi cedere Turam stavano già facendo partire Turam per fare mercato a zero quindi questa è una condizione vergognosa perché te lo ripeto te con i cinesi non andavi da nessuna parte il prossimo anno la forza propulsiva dei degli unici e pochi investimenti che ha fatto è finita stai raccogliendo le ultime cosine ora in queste settimane la forza propulsiva l'è finita servono investimenti 70 partite il prossimo anno ai 3 4 titolari da 35 anni servono soldi soldi se non ce l'hai ti compri una squadra di ping pong forse non ci siamo capiti e la patente di interista tenitela per te perché per fare i video ci sono tanti argomenti è possibile su 50 video 40 solo di patente di interismo ciao inter ci becchiamo dopo ciao 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 ciao